Mi scusi Letta, ma perché non si è alleato con i 5 Stelle? Beh, da un certo punto di vista è molto semplice perché io ho insegnato a Parigi e sono venuto in Italia proprio per sollevare le sorti del PD. Sì, ho capito, ma perché non è riuscito a convincere tutti a fare un'alleanza, ad esempio con Calenda? Quando io insegnavo a Parigi, perché io ho insegnato a Parigi, questo l'abbiamo capito, ma non... Insegnavo proprio la forza ed il coraggio in politica. Va bene, a Parigi. E sono venuto in Italia e però non ho avuto proprio quel coraggio e quella forza che insegnavo io ai ragazzi a Parigi. Va bene, ho capito. Per esempio, con i 5 Stelle non ho avuto il coraggio, con Calenda non ho avuto il coraggio. Ma come mai? Perché li ho lasciati a Parigi. Cosa? I coglioni. Torna Fratelli di Crozza. Da venerdì 23 settembre alle 21.25 sul 9 e in streaming su Discovery Plus.